oh ragazzi ciao ragazzi oggi che fa oggi vado a cambiare le manopole alla moto cambio le manopole ecco le manopole nuove manopoline nuove arlenness monopole nuove eccole qui monopole nuove arlenness con la zignatura per una migliore impugnatura per una migliore impugnatura ora vado smonto con le vecchie metto con le nuove vai prima di tutto bisogna allentare i registri i registri dell'acceleratore la manopola dell'acceleratore è quella più praticamente c'è un po' più di lavoro da fare per andare a rallentare i registri dell'acceleratore la manopola 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 dei cavetti dell'acceleratore la manopola di sinistra praticamente è tutto in discesa perché non c'è non c'è da allentare i registi niente bisogna mollarla da qui perché comunque è presa da è tenuta dal blocco dal blocco comandi dal blocco degli interruttori e tenuta la manopola quindi niente va mollata da qui queste torse poi andrebbe protetto come si fa questi lavori va protetto il serbatoio si toglie le torse anche qui ci sono le torse queste due sono le torse due due torse che tengono un blocco pulsantiera una sopra una sotto due torse e tengano anche la manopola quindi quindi a questo punto a questo punto la manopola eccola si tira via eccola qui manopola vecchia manopola vecchia manopola nuova anche questa bellina è marchiata anche questa all'innese con la scrittina all'innese caruccia caruccia ci danno anche la colla per che forniscano anche la colla per fissare la manopola di sinistra grazie a tutti 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 e poi in cima qui in cima qui in cima qui in questa parte finale ci ho messo la sua la sua colla la sua colla che danno in dotazione con le manopole ora vado a rimettere vado a rimettere le torse quindi una qui intanto sta tuonando qui sembra che voglia piovere torse a torse quando si fa questi lavori ragazzi attenzione con il serraggio perché questi blocchetti sono all'alluminio e si strappano e si strappano e si strappano filetti poi sono cavoli poi sono cacchi amari se si strappano e poi ci vogliono tanti sordini e poi ci vogliono tanti sordini a ricomprare la pulsantiera nuova quindi occhio nel serraggio eh direi che basta direi che ci siamo a questo punto le manopole sono montate quelle vecchie manopole di sinistra quella vecchia sempre meno originale ragazzi 17 anni di servizio queste manopole quella di sinistra è questa per lei di destra l'ho fatta vedere prima manopole nuove montate fine al prossimo video ragazzi è è mondo nel mondo early davis o nel mondo bike